Benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Ci troviamo di fronte alla sede di una delle istituzioni più prestigiose, importanti e serie della nostra nazione, la Banca d'Italia, che appunto sede qui a Palazzo Koch, a Roma. Questa istituzione così fondamentale per il funzionamento del nostro paese possiede al suo interno un luogo tra i più protetti e inaccessibili, e un luogo che custodisce davvero qualcosa che rappresenta la ricchezza dell'Italia. È la nostra riserva aurea. Ecco, noi abbiamo avuto un permesso del tutto eccezionale per mostrarvi questo luogo, un luogo che ha un nome curioso, la Sacristia dell'Oro. Siamo arrivati, vedete c'è una grande porta corazzata e ci stanno aspettando anche tre alti dirigenti, tre alti funzionari della Banca d'Italia, che a turno infilano una chiave. Per aprire questa porta infatti ci vogliono tre chiavi, messe una dietro l'altra, operata da tre persone diverse. Ovviamente per motivi intuibili non possiamo mostrarvi i loro volti nei sistemi di sicurezza di questi luoghi. Ecco, la porta si sta aprendo, una porta corazzata immensa, guardate, è larga mezzo metro, e all'interno c'è una pedana, una pedana d'acciaio che viene tirata giù e oltre c'è una cancellata, anche questa dovrà essere aperta col sistema delle tre chiavi. Oltre c'è proprio l'ambiente che conserva l'oro del nostro paese, la ricchezza aurea, e che verrà aperta tra qualche istante. Sta cancellata, eccoci. È davvero emozionante entrare in questo luogo. Gli ambienti qui dentro sono semplici, razionali, ma non lasciatevi trarre in ingranno, perché attorno a noi c'è una delle più grandi riserve d'oro del pianeta. È qualcosa che è talmente distante dalla nostra realtà quotidiana, fatta di orecchini, anellini, eccetera, che è difficile da concepire, è difficile rendersene conto. Io non ho mai visto qualcosa di simile. Migliaia di lingotti d'oro, oro purissimo. Sono immagini rare quelle che vedete, perché qui, come potete immaginare, beh, di solito le telecamere non sono ammesse. Anzi, è la prima volta che questi ambienti vanno in prima serata. Ma la Banca d'Italia ha ritenuto giusto mostrarli a noi tutti. Ogni nazione ha una propria riserva aurea, custodita nella propria banca centrale, e questa è la nostra. Ma non è tutta qui. Infatti, un'altra parte è custodita strategicamente nelle banche centrali di tre altre nazioni. La Federal Reserve, negli Stati Uniti, la Bank of England, nel Regno Unito, e la Banca dei Regolamenti Internazionali, in Svizzera. Si rimane davvero senza parole nell'esplorare la sacristia, perché in certi punti offre, vedete, delle visioni alle quali noi non siamo abituati e che non si vedono. Ma quanto oro c'è esattamente dentro la sacristia? Qual è il suo valore? Beh, è impossibile riuscire a dare una cifra esatta e sarebbe sbagliata, soprattutto se ci si riferisce al prezzo dell'oro sul mercato. In effetti, il valore di quest'oro viene calcolato anche secondo altri parametri stabiliti dalla Banca Centrale Europea che poi indica un prezzo di riferimento. Il valore complessivo poi compare solo nel bilancio della fine dell'anno. Ora, per darvi un'idea, nel bilancio del 2005, la valutazione dell'oro custodito dalla Banca d'Italia era di oltre 20 miliardi di Euro. Una notevole ricchezza. Le nostre riserve auree sono principalmente costituite da lingotti o verghe, come vengono chiamati tecnicamente. E ce ne sono di tre tipi. C'è il tipo, diciamo così, classico, di forma prismatica. Poi c'è il tipo americano, che vedete ha una forma di parallelepipedo. E poi, infine, la forma a panetto, che è il tipo inglese. Non vi fidate di quello che vedete nei film. In realtà i lingotti pesano moltissimo. Basta prenderne uno. Il peso medio si aggira sui 12,5 kg all'incirca. Ecco, questo anche un pochettino di più. Ma si va dai 4,2 kg fino ai 19,7 kg. Sui lingotti ci sono dei segni, come la cosiddetta unghiata, che prova l'avvenuto controllo della purezza del lingotto. Mediamente è intorno al 99,6%, ma in certi casi, come su questo lingotto, si arriva addirittura al 99,99%. In pratica questo è praticamente oro puro. E poi c'è il numero di fusione. Lo si vede molto bene qui, su ogni lingotto, una specie di targa, di matricola, impressa dalle varie officine di fusione. Con il loro simbolo. Ma su alcuni lingotti, lo vedete, è stampigliato il simbolo nazista. Perché? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale i tedeschi in ritirata portarono via tutto l'oro della Banca d'Italia, trasferendolo prima in Nord Italia e poi in parte in Germania e in parte in Svizzera. Finita la guerra, però, solo una parte di quest'oro ritornò indietro e molti lingotti avevano marchi naziste. L'Italia poi ha riacquistato dell'oro nei decenni, ricostituendo la sua riserva aurea e basta guardare i simboli sui vari lingotti per vedere la loro provenienza. Questo viene dagli Stati Uniti, quest'altro dall'Inghilterra, questo addirittura dalla Russia. Insomma, ogni lingotto racchiude un capitolo di storia. Tutto quest'oro a che cosa serve? Beh, non è facile rispondere. I lingotti della nostra riserva non sono come una specie di conto in banca per effettuare pagamenti da parte del nostro paese. No, in realtà rappresentano simbolicamente la ricchezza dell'Italia, della nostra nazione, senza la quale non sarebbe possibile dialogare o trattare con banche e economie estere. Per fare un esempio, è come se negli affari giudicaste una persona non tanto dal suo conto in banca, ma dalla sua serietà, dalla sua onestà, in fondo dalla sua cultura. È qualcosa di simbolico, è difficile da quantificare, ma vi dà una garanzia di affidabilità. Ebbene, questo è quello che rappresenta quest'oro per l'Italia. Più praticamente, tutto quest'oro, questi lingotti, sono un po' come dei gioielli di una famiglia. Non si vendono, ma in caso di estrema necessità possono essere impegnati per dei prestiti. Ed è proprio quello che è accaduto durante la crisi petrolifera, negli anni 70, quando l'Italia chiese un prestito di 2 miliardi di marchi alla Germania, la quale pretese, come garanzia, il controvalore in oro, in lingotti d'oro. E qui, all'interno della sacristia, un certo numero di lingotti vennero etichettati con la scritta Germania. E poi questo debito è stato ripianato. L'impiego di monete in oro o argento ha consentito per secoli di regolare facilmente gli scambi essendo i metalli preziosi accettati ovunque. Ma con l'ampliarsi dei mercati, l'oro e l'argento non bastavano più a soddisfare la domanda di moneta. Si è passati così gradualmente all'uso di metalli e materiali non pregiati fino ad arrivare alla carta. Il valore di ciascuna moneta non è più legato al materiale di cui è forgiata, ma al valore convenzionale indicato sulla moneta stessa. Tuttavia, ancora fino a pochi decenni fa, era possibile recarsi in banca e farsi corrispondere il valore delle banconote in oro. Oggi la convertibilità è stata abbandonata. Gli ultimi ad averlo fatto sono stati gli Stati Uniti nel 1971. A sostenere il valore della moneta non c'è più l'oro, ma la fiducia nello Stato, nella sua credibilità e responsabilità. In termini più semplici, si può dire che una banconota da 10 euro vale 10 euro perché chiunque accettandola in pagamento è sicuro che altre persone alle quali a sua volta verrà ceduta la banconota riconosceranno per volontà propria e perché obbligati dalla legge che tale banconota vale 10 euro. È essenziale che questo rapporto fiduciario non venga mai meno e che il valore della moneta sia preservato per impedirne il collasso sul mercato mondiale con gravissime conseguenze per l'economia. A difesa della moneta vi è la Banca d'Italia che vigila sulla stabilità dell'intero sistema bancario nazionale e sull'operato del governo in materia economica. Per più di un secolo la Banca d'Italia ha emesso le banconote e ha deciso quante ne dovessero circolare. Con il trattato di Maastricht il potere di emissione della moneta è stato conferito agli stati membri che hanno aderito all'euro alla banca centrale di Francoforte. E 8.000 lingotti cioè 100 tonnellate d'oro hanno lasciato Palazzo Koch per andare a creare insieme all'oro degli altri paesi membri una grande riserva aurea comunitaria che contribuisce alla credibilità finanziaria dell'euro. Questa sera, come l'avrete capito la nostra puntata avrà un tema molto particolare ori e tesori e soprattutto le storie che stanno dietro ai tesori storie a volte davvero incredibili.